Aveva deciso di vivere così, il cinquantenne trovato morto da un amico nella sua roulotte alla periferia di Borso del Grappa. Aveva scelto di abitare in quella roulotte parcheggiata in fondo a un terreno incolto a ridosso della zona artigianale del paese. In via Lavazze aveva tutto quel che gli serviva, un tetto sopra la testa, il suo scooter e il suo amato cane. E lì, in mezzo alle poche cose che teneva con sé, l'hanno trovato i soccorritori quando ormai era troppo tardi. Avrebbe dovuto partecipare a un pranzo con alcuni amici che, allarmati per la sua assenza, sono andati a vedere in quella roulotte parcheggiata sotto gli alberi. Per lui, però, non c'era più niente da fare. Un malore l'aveva ucciso già da ore. Forse durante la notte, forse il giorno prima. Le persone che abitano nel quartiere hanno appreso la notizia con grande dispiacere perché il cinquantenne era un uomo di buon cuore. Una persona buona che scambiava due parole con chiunque avesse voglia di passare un po' di tempo con lui. Una vita che da tempo aveva preso quella piega e che si è spenta nel silenzio di un giorno di pioggia. A spezzare quel silenzio solo l'abbaiare del suo cane, arrabbiato per tutto quel trambusto attorno alla casa del suo padrone. Nelle scorse ore si stava cercando una soluzione almeno temporanea per l'animale. La salma del cinquantenne è invece stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Bassano de Grappa, dove forse verrà sottoposta a un esame autoptico per definire in modo esatto le cause del decesso.